Questi sono argomenti nel quale non servono le interviste altre persone, servono le esperienze personali, perché per poterne parlare in un certo modo e far capire un po' lei che si prova nel lavorare in straordinaria overwork in Giappone e vedere il contesto della normalità nel quale pseudo, tra virgolette, normalità nel quale Giapponesi affrontano l'overwork e il concetto del lavoro, il concetto delle ferie inesistenti, tutto quello che ne viene nell'ambiente lavorativo bisogna provarlo sulla pelle. L'intervista ho questa altra cosa relativa. Io ho raggiunto tra le 70-80 ore straordinario come massimo a giugno e luglio, ho fatto questa media così. è la media di ore di sonno di 5, 6, scarse, 13 ore di lavoro al giorno, 5 giorni a settimana. A volte lavoravo in extra, tipo una domenica, capitava, mi chiedeva l'extra. Attaccavo l'ora alle 7 di mattina e finivo il mio turno alle 7.40 di sera. Poi attaccavo 6, alle 7 meno 10, comunque parliamo di 12 ore e mezza più o meno in fabbrica. Faccio il calcolo, 12 ore e mezza diventano 60 ore, 60 qualcosa? Ci so. Più le aggiungere di trasporti per andare a lavorare. Cosa mi ha portato questa cosa qua? Mi ha portato a uno stress. Non ho avuto tempo materiale, non hai tempo di organizzarti con altre persone, non hai tempo di svagare. a me, che conoscevo, era sempre imbegnato. È stata tosta, raga, perché entri in quella cosa psicologica nel quale ti stressi e non ti rendi conto del livello di stress che hai. Io avevo un po' la fame nervosa. Cioè, domani a me mi attaccavo, mangiavo sempre, mangiavo spesso, mangiavo quando tornavo dal lavoro, nella via per tornare al lavoro, perché arrivavo a casa alle 9 e mezza. Andavo svegli a me la mattina alle 5 e un quarto, minimo, per poter prendere il primo treno alle 5 e 48. Avevo più o meno sette ore e qualcosa di tempo, tra cena, doccia, doccia, cena, mettete la voce all'ordine che volete, e poi dovevi dormire. Quando la metti, metti otto ore di sonno al giorno. Invece io avevo sette ore di tempo nel quale fare tutto. Giri un attimo, mangi, fai una doccia, sta un po' con la tua donna, come io e stavo con mia moglie, un po', e boom, arrivi alle undici mezzanotte e dici, cazzo. Devo andare a dormire. Il cervello non vuole andare a dormire, perché subendo un discorso di insonnia. Ecco perché l'ho realizzato perché alcuni giapponesi arrivano ad un livello nel quale si prendono le pillole per dormire, che poi sono le stesse con le quali si suicidano alcuni giapponesi. Perché a un punto nel cervello non si spegne, ma devi spegnerlo, perché se non vai a dormire non ti fai nemmeno quelle 5 ore, 6 di sonno. La mattina o dopo sono zombie, cioè ogni mattina la zassi diventa un macello. Ero aggiunto le 98 kg di peso, ragazzi. YouTube è stata una delle cose fenomenali, perché mi ha aiutato parecchio, ha assorbito parecchio dal mio stress. Cioè, venite in Giappone, ma occhio che c'è questa situazione e c'è quest'altra. Pensate che venite in Giappone e poi fate tutte le serate, tutte le sere a Shinjiko fa bordore, tutte le sere attraverso, facciamoci 3 ore di slalom nell'ingrocio di Shibuya, che bello, tutte le sere, cavolo. Col cavolo che tutte le sere fai avanti e dietro, perché quando finisci a lavorare l'ultima cosa che vuoi vedere è proprio l'ingrocio. A meno che non vivi di casa nel dietro l'angolo, cosa molto complicata, molto impossibile da fare, perché se hai una casa la sceglierai dove paghi poco. E la media, una volta che ho visto alcuni appartamenti di 80.000 yen, 700 euro, 800 euro, 900 euro in zone molto distanti dal centro, dei famosi centri che una persona vuole andare a fare serata e bersi una birra, perciò vuol dire trasporti, treni, macelli e altre situazioni, e comunque la mattina tu potevi lavorare, perciò la cosa si riduce veramente, che fai casa, lavoro, lavoro, casa. Cosa ho fatto io? Quando sono tornato dall'Italia, mi sono messo un attimo a combattere una battaglia, nel quale era diventata ormai una normalità che dovevo finire alle sette e mezza. gli ho fatto capire che per me era ingestibile, ed ero pronto a fare fisso la mattina, l'ora in più, perché a volte io non attaccavo sempre alle sette, attaccavo anche un po' dopo. Poi ho detto io, guarda, la sezione la vengo aprì io, 6.50, io sono qua, 6.50 è già claccato, già sono in laboratorio, perché comunque l'autobus arriva in fabbrica ai 6.32, una volta che mi sono cambiato, non è che devo fare, vado a lavorare. Ho detto, io alle mattina me la prendo tutte quando io, però alle 6.30 me ne vado. 7.10 c'è il primo autobus, alle 8 sono a casa. Cacolate che comunque esco da casa alle 5.30 di mattina, sto fuori 12, 6.30, 7.30, 14.30 al giorno io sto fuori, 15 ore più o meno sto fuori, tra i trasporti e il lavoro. su 24 comunque sono fuori 15, però ho guardato un po' più di ore, nel quale torno a casa posso fare una cena con mia moglie, posso rilassare, posso arrivare alle 11, in gioco e vado a dormire. Però è diverso che va a casa la porta di casa alle 9, è veramente un'altra cosa, cioè psicologicamente è un'altra cosa. Poi tutto quello che è venuto, ho tolto tutte le mangiate extra, cerco di non toccare niente, non tocco più roba gassata, non mangio nella via di ritorno, non vado al combina con belle patatine, ho eliminato un sacco di cose, ma già questa cosa qua mi sta facendo perdere peso. E il discorso mi rendo conto che intorno a me tutti lavorano queste ore qua, se un giorno vorrei fare 24 ore di lavoro lo potrei fare. Nel contesto mio io posso fare questo, perché la fabbrica non ha un'area di apertura, di chiusura, è sempre aperta. Il lavoro è 24 ore su 24, ci sono delle ore in cui alcuni lavoratori aprono e alcuni chiudono, ma il contesto generale è che si può lavorare sempre. Se io faccio gli straordinari mi vengono pagati. Alcune aziende giapponesi invece non vi pagano gli straordinari, li includono direttamente sul contratto. Cioè vedete, uno stipendione da 240.000 yen al mese, 250.000 yen al mese, ma poi gli straordinari sono inclusi nel contratto. Volete dire che di tutti quei soldi dovete dividerli per tutto l'ammontario delle ore che fate e andate sotto le 1.000 yen all'ora. Il più grande problema in Giappone non c'è il concetto faccio lavoro bene e perfetto, no. Più lungo lavoro, meglio lavoro. Più lungo rimango a lavorare, più sono una persona che tu ti puoi fidare. Cioè tu capo di lavoro e ti puoi fidare di me. Perché? Perché sono pronto a farmi 2.000 ore al giorno. E questa è una mentalità che danneggia e non cambierà mai il sistema giapponese lavorativo. Perché quando le modifiche si vogliono fare, questa mentalità blocca tutte le modifiche. perché se chi la finisce a lavorare, molto molto capita che uno finisce a lavorare in ufficio, 5.30, pieno orario preciso, finisce a lavorare a fare il suo. Ma intorno a lui tutti ancora continuano a lavorare. Perciò non può lasciare l'ufficio. Deve rimanere e fare fin da lavorare fino alle 7, fino a quando tutti staccano. La maggior parte stacca. Poi c'è questa cosa qua, è uno stress psicologico. Perché se hai visto male, ma quello se ne andate se ne va. Prima uno svogliato, uno menefreghista, non si impegna. Poi capace che il lavoro voi l'avete fatto tutto. Perfetto. Ma dovete rimanere. Molte volte succede il fatto che la mia posizione è una cosa che io faccio fatica a digerirla. Ma quando dovremmo rimanere fino alle 7.30, capitava che... E rimanevamo in due. Potevamo fare, un giorno rimaneva uno, un altro giorno rimaneva un altro. No, dovevamo stare tutti e due là. Calcolate che però, molte volte, tra un dolce e un altro, bisognava aspettare che finiva la cottura di uno. Cioè si svuotava il macchinario che conteneva tutto quanto l'impasto. Si svuotava tutto il forno, tutto quanto il rullo. E rimettere il nuovo che bisogna cambiare la temperatura. Tutta questa cosa qua. Prendeva un'ora e mezza, due. Che, alla fine, restavamo a guardarci io e i miei colleghi molte volte. Distrutti, stanchi dal fatto che avevamo attaccato presto la mattina pure. Perciò arrivi a un certo punto che stai là, sei un attimo così, sei stanco. Però devi rimanere là perché così è, perché così deve essere. Ci ho combattuto una settimana e sono riuscito a trovare del compromesso. Però chi lavora in azienda non lo può fare. E molte volte si vanno in depressione, si stressano, si ricoverano, si vanno in mano a farmaci, i quali non danno nessun risultato. E molti vedono, non lasciano il lavoro perché hanno paura del fatto che si cominciano a licenziarsi con una certa... Cioè ogni due, tre mesi. Poi nel futuro non troveranno mai un lavoro col quale poter creare una famiglia, uno stabile. E che gli possa dare un futuro, una pensione, una cosa che... Cioè tutte queste preoccupazioni portano poi alla depressione e alla scelta poi di arrivare appunto a che alcuni si suicidano. Io mi ricordo il mio collega di lavoro mi ha detto... Mi ha detto va io vado in Italia, poi con lui vedendo le mie famiglie. Il mio collega ha detto no, non mi piglio ferie perché gli va bene così. Eccordate che l'azienda, in media le aziende giapponesi danno dieci giorni fino a... Si parte dai dieci, dopo i primi sei mesi di contratto, correggetemi se sbaglio, ma si parte con il minimo di ferie. E poi man mano diventano tipo rabbenti che comprendono poi la malattia. Perciò automaticamente quando tu vai in ferie e ti prendi dei giorni di permesso, ti vengono scadili da là. Poi a me mi hanno chiesto, visto che eravamo chiesti così tanti, ho detto ma le vuoi tutte pagate o non le vuoi pagate? Io penso metta, metta non me le sono state pagate. Perché se ti ammali o hai bisogno di giorni di permesso, sappi che poi non verrai pagato in quei giorni. Cioè c'è questo discorso qua. Io ho la libertà di poter fare questa cosa. E per questo ancora rimango a lavorare là perché ci sta un discorso di pro e contro che è vantaggioso per quello che penso io. Ma per chi lavora in azienda non è libero di prendersi più quei giorni che ho io. Mia moglie può prendersi una settimana, otto giorni e finisce là. Non è che ne può prendere dieci. E' bello che li ha, li potrebbe usare perché li ha questi giorni. Ma nessuno lo fa e il sistema dell'azienda non... E rimane così raga. E molti sono così. Immaginate la situazione nel quale alcune aziende dicono tu fai gli straordinari, vuoi che te li paghiamo? Sì, entro mezzogiorno mi devi dare un foglio, mi devi fare una specie di dichiarazione scritta nel quale tu attesti il perché quel giorno, oggi, tu pensi di finire oltre le 5 e mezza, 6. Dimostramelo. E così automaticamente il straordinario che farai te li paghiamo. Ma tu a mezzogiorno non hai idea di cosa potrà succedere nel tuo posto di lavoro. Automaticamente il gioco è fatto. Nessuno compila quel modulo. E molti, il 90% si trovano a fare overwork fino alle 7, 8, 9 di sera. E quelle ore non li vengono pagate. Spettacolo! Perché tu devi prevedere se... Cioè non è una cosa che tu dici ok, sì, io prevedo di rimanere nel perché così... Tu devi dimostrare il perché. Lo stress sullo stress che nessuno giapponese vuole affrontare. Cioè nessuno compila. E tutti si rassegnano al fatto che in quella situazione lo stipendio arriva uguale. Mi sono sparato 3 ore in più. Buona. Mi faccio quelle 50, 60 ore in più. Poi c'erano i giapponesi che ti dicono Eh ma... I soldi straordinari sono perché devi ringraziare all'azienda che ti assunto. Perciò gli devi, devi dare queste ore in più. Come grazie che mi hai dato il contratto di lavoro. Devi rimanere. Cioè come se già tu lavorando 10-11 ore, 12 ore al giorno Non gli dici abbastanza volte grazie. Che fanno soldi grazie a tu che lavori e che produci. Ma ragazzi, io chiudo quel video. Venite a vivere in Giappone? Perché no? Fatelo con la consapevolezza però. Che probabilmente non sarà tutta rosa e fiori come pensate. Io vi auguro, se avete questo sogno di realizzarlo, Vi auguro il meglio. È più grande soddisfazione. Io non sono qui per farvi desistere o demotivare. Io sono qui per darvi una chiara informazione sul Giappone. Su quello che io reputo una realtà. Che chi non ne parla, ve lo ripeto perché non l'ha ancora sperimentata sulla propria pelle. Per chi non ha un'idea di come funzioni qua il sistema logico giapponese. Ditevi la vostra nei commenti, raga. Mi raccomando. È un argomento che cominciano adesso. Man mano che escono notizie che riguardano persone che fanno... Cercano di... O muoiono in conseguenza al Karoshi. Tutti ne parlano. È un argomento che... Ritorneremo a trattarlo molte volte. Anche per vedere se ci sono stati cambiamenti. Vedremo. Vedremo cosa succede. Grazie per il vostro tempo. Un bacio. Un abbraccio. A prossimo video dal Giappone.